Ciao, oggi vogliamo condividere con te il lavoro che abbiamo effettuato in questi ultimi 15 giorni. Guarda il video. Ciao. Eccoci qua, finalmente abbiamo fatto l'atto notarile. Siete più rilassati, contenti? Sì, finalmente, molto, lo aspettavamo da settembre. Perfetto. È andato tutto bene. Bene, immobiliare Cardellini come sei comportata? Benissimo, è già seguito passo a passo e ancora ci dovrà seguire. Bene, bene, sono contento, ci vediamo prossimamente. Va bene, grazie, grazie mille. Ciao Laura e Luciana, finalmente siamo usciti dal notaio. Tutto è andato bene, mi sembra? Sì, tutto benissimo. Siete contenti? Sì. Finalmente. Finalmente ci abbiamo fatto. Perfetto, io vi ringrazio. Eccoci, finalmente siamo usciti dal lato notarile e siamo veramente felici. È stato un parto difficile. Però il nostro Cardellini è veramente un petto da 100. È numero uno. Perfetto, allora ci vediamo al prossimo atto. Ciao.